Riaprono dopo lo stop natalizio, uno stop improvviso che però per noi ha costituito la perdita di gran parte del fatturato dei mesi invernali. Il mese di dicembre e il mese di gennaio costituiscono il 70% delle entrate delle discoteche invernali. Tanti miei colleghi per l'Italia hanno dovuto chiudere. Primo weekend di riapertura per le discoteche in due mesi. Il comparto ha perso circa 200 milioni di euro e il 30% delle strutture non riaprirà. Nella migliore delle ipotesi, in attesa della stagione estiva, pochi giorni per mettere in moto la macchina, costi elevati e così nel barese, casse e luci resteranno in gran parte spenti. Meglio nel Salento invece. Febbraio non è dicembre, d'altro canto, e la maggior parte degli eventi del periodo è ormai alle spalle. Figli di un dio minore, ha riassunto l'approccio il sindacato di categoria. Accesso soltanto per chi ha il Super Green Pass, tradotto vuol dire la terza dose di vaccino oppure l'essere guariti dalla malattia. Capienza, limitata al 50% per i locali al chiuso, che diventa il 75% per quelli all'aperto. Siamo dei sopravvissuti, commentano Amari dal Silb, la speranza è tutta nella bella stagione. Puntiamo molto sull'estate, crediamo che potrà essere un'estate proficua con numeri molto alti. E' chiaro che però chiediamo di poter finalmente lavorare, perché sono due estati che non lavoriamo. La scorsa stagione ci hanno detto aprirete il 5 luglio, poi il 10, poi il 15, apertura delle discoteche, mai avvenute. Eravamo dei lunch bar, dei disco pub e non discoteca. Grazie. Grazie.